Torniamo a seguire la formazione Berretti allenata da Elvis Abruscato che nello scorso turno è stata battuta proprio all'ultimo dalla Lupa Roma che ha ribaltato il risultato. L'Arezzo era passato grazie a un autogol poi la Lupa Roma rimontato è finita 2-1 e L'Arezzo dunque torna a giocare in casa quest'oggi contro la Pistoiese non giocava in casa dalla fine del 2016 c'era stato poi il turno in cui L'Arezzo aveva riposato poi la trasferta che abbiamo ricordato e quindi oggi ritorno in casa contro la Pistoiese. Calcio d'angolo batte Tartaglione secondo palo e c'è il gol c'è il gol del vantaggio della Pistoiese con Pandolfi se non abbiamo visto male che ha colpito di testa esattamente è l'1-0 dunque della Pistoiese tutti a bracciare l'allenatore Costa stacco dentro l'area di rigore. Prova la sponda Caselli poi Salvestroni attenzione che arriva Dajanaga Dajan grande serpentina Dajan col destro la porta è vuota e c'è subito il pagheggio di Caselli immediato pagheggio dell'Arezzo ci ha creduto Dajan su questo pallone e poi nel proseguimento è arrivato l'assist a porta vuota per Caselli l'Arezzo ha pagheggiato subito 29-1-1 e poi l'Arezzo con Marsicano Marsicano se l'ha allungata Doro ha tentato di rilanciare Gallorini attenzione l'Arezzo con un colpo di testa qui di Capogna manda in porta Metolli tutto solo Metolli Metolli in aria Metolli finisce a terra e lo invita a rialzarsi l'arbitro lo invita a rialzarsi l'arbitro tutta la panchina dell'Arezzo in piedi che occasione per Metolli che palla di testa che gli ha varato Capogna poi arriva l'arbitro c'è un giallo per Gallorini per protesta probabilmente Con la pista a bruscato una partita un po' scorbutica diciamo così c'è stato anche poco spazio per vedere qualche giocata intanto sei contento da questa azione? Dal punto di vista motivazionale che la squadra ha dato sì assolutamente sì per quello che riguarda il gioco un po' meno anche perché abbiamo fatto solo due o tre presupposti abbiamo creato per far male Comunque nell'azione del gol del pareggio c'è tutto quello che noi proviamo quindi sono contento perché comunque è venuto qualcosa che la squadra sa fare e che la squadra ci crede E' chiaro che in questo momento i risultati vengono un po' a meno quindi anche autostima e convinzione nel fare le cose però tutto sommato sono soddisfatto per l'interpretazione per aver portato a casa un punticino con le unghie Ecco tra l'altro quel tipo di giocata era quella che effettivamente si vedeva anche all'inizio con le verticalizzazioni di rapide che poteva mettere in difficoltà una squadra come la Pistoiese che aveva preso in mano il gioco soprattutto per te Sì sai quando si cerca di trovare la tre quarti o di giocare tra le linee la squadra avversaria ti pressa forte è normale che all'inizio si fa un po' di fatica e magari la squadra avversaria riesce a fare qualcosa riesce a creare qualcosa quando recupera la palla perché quando ti predisponi a uno sviluppo di gioco comunque ti predisponi anche a un contropiede dell'avversario però noi crediamo assolutamente nel fatto che ci dobbiamo provare a giocare la palla cercare di crescere di far maturare i giocatori e poi l'errore si fa lo chiedo chi non prova non fa errori però è anche vero che non propone nessun tipo di calcio di emozione a me piace che i ragazzi ci provano e poi che vedono che nel provarci si trova anche la soluzione in questo momento un po' per mancanza di continuità di risultati non è facile perché comunque la motivazione e l'autostima è quella che è una componente e il sentimento e il sangue in questo sport è quello che comunque ti spinge a migliorare la giocata In fine Metogli ha avuto comunque quell'occasione solo davanti al Porte che c'è stato un contatto su cui la difesa ha protestato doveva calciare prima o pure quel contatto fa un po' arrabbiare? No, no, far arrabbiare no, far arrabbiare a me no, però far arrabbiare l'attaccante sarà arrabbiato con se stesso Meto ma sa benissimo che in quel momento doveva tagliare davanti al difensore e poi aspettare che il difensore facesse un fallo netto oppure che lo lasciasse tirare in porta però ci sono errori, non ho mai accusato nessuno degli errori